hello hello non so se è stata una buona idea usare la mano destra per fare la videocamera però vediamo cosa riusciamo a fare chiediamo la porta allora mi hanno chiesto se cortesemente riuscivo a recuperare un computer perché uno dei miei nipoti deve andare all'università solo che io qui computer buoni non penso di averne granchie allora forse 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 allora allora tipo no battaglia hdd ok questo interessante dice no hdd ci crediamo ci crediamo allora alimentatore le nuovo lenovo 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 c'ho pure il cavo antenne che cadono usato ma sto sempre sistemando un po tutto io non si non mai ti sistemare il mondo quindi mettiamo un attimo nel panchetto provvisorio quindi funzionante nuovo hdd ho messo abbastanza bene esatto se c'è una ram e manca l'hdd wifi c'è battaglia tampone c'è intanto quasi quasi cerco un ss d ss d ss d c'è io c'è io c'è la 500 giga secondo me meglio di questo non posso trovare se poi c'ho solar disk qua se allora se si accende cose che io mi auguro fortemente poi vado su perché giù adesso non posso fare granché come una mano non è molto facile allora se si accende se si accende se attaccano anche l'alimentatore e lui ci sono scusate il movimento della camera ma ho solo una mano e non sono in grado che non è scoppiato niente qui anche qua lampeggia lampeggia quindi batteria in teoria la sta caricando che si accende la c'è 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 ovviamente il sistema no però questo non è un problema perché su c'ho le chiavettine con windows 10 windows 11 e le installo dicevo vado su intanto spengo perché vado su perché giù non ho ancora sistemato benissimo questa parte è inguardabile in teoria dovrei lavorarci qua sulle cose di questo tipo ma no non è neanche adesso possibile quindi ci vediamo su dunque allora mi volevo mettere di qua ma ho appena pulito tranne lì e non c'ho voglia mi sa che mi metto di là mi metto di là che c'ho anche un asciugo da qualche parte sì ce l'ho perfetto mi metto qui e cerchiamo windows quindi c'ho windows 11 secondo me secondo me windows 10 non ce l'ho adesso lo cerchiamo allora io non so se windows 11 si installa qui ho i miei grossi dubbi onestamente però tentare non nuoce la chiavetta è partita e già questo è una vittoria beh good sono io che non clicco o sono io che non clicco bravissimo installa ah volum produce ok benissimo io effettivamente ce l'ho ed è sotto al computer che poi in realtà si è sotto al computer quindi mi serve fare una foto arrivo allora io produce che l'ho messo ovviamente non supporta windows 11 questo computer ma aveva un po il sentore comunque adesso faccio la chiamettina di windows 10 che effettivamente mi manca quindi mi sposto su quella postazione la e la faccio subito per chi non lo sapesse c'è proprio la pagina di microsoft che ti permette di scaricare il tool che ti permette appunto di creare una chiavetta buttabile di windows 10 però mentre cercavo una chiavetta da sacrificare cioè questa qua inserendo la ho visto che dentro c'è già windows 10 quindi sono a posto andiamo eravamo rimasti qui ho inserito il prodotto ok del 7 pro così c'è un windows 10 pro andiamo avanti qua perfetto effettivamente c'era una partizione di qualcosa in questo disco non mi interessa niente allora io per scrupolo clicco sul nuovo di solito ma facendo avanti non cambia nulla però facendo nuovo vedo che effettivamente mi crea le partizioni che servono ma è più una cosa mia mentale che è una cosa che serve effettivamente poi vado avanti e lui formatta e si installa questo operativo sicuramente nonostante lssd nonostante tutto ci metterà un po di tempo perché di per sé non è un grandissimo computer questo qui però se è solo per l'università magari 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 ci basta bene io direi che ci siamo il pc è praticamente pronto dopo restare tutti quanti i driver fare gli aggiornamenti vi dicendo se effettivamente poi sarà abbastanza performante il giusto lo preparerò per spedirlo lo pulirò toglierò la sporcizia un po di muffa che si è attaccato un po qui per dire basta per il resto mi raccomando iscrivetevi che forse forse tornano altri video per il resto Grazie a tutti.